Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andiamo a vedere quale sarà l'evoluzione per il mese di aprile per i single. Potete scegliere in base al colore del mazzo, il mazzo rosso, il mazzo verde o il mazzo grigio oppure potete farvi guidare dai segni zodiacali e vi ricordo che oltre al segno solare sarebbe bene guardare anche l'ascendente. Allora per il primo mazzo abbiamo capricorno, acquario, cancro e sagittario. Per il secondo mazzo abbiamo pesci, toro, bilancia e scorpione e per il terzo mazzo abbiamo leone, ariete, gemelli e vergine ragazzi. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. Benvenuti agli amici del primo gruppo, andiamo a vedere le tendenze energetiche per il mese di aprile. Vi ricordo che le letture sono generiche, facili che non risuoni tutto. Se non risuona nulla potete ascoltare una delle altre letture e integrarle con quella del vostro segno solare. Bene ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Allora abbiamo la luna, un asso di spade, la temperanza e un tre di bastoni. Allora, con questa luna ci potrebbe essere un qualche cosa che riguarda il passato, potrebbe essere qualche emozione o qualche sentimento che ritorna a galla dopo tanto tempo o potrebbe anche essere una paura, per esempio, diciamo verso inizio mese. Considerato che appunto è una lettura sui single, potrebbe far riferimento a qualcuno che ritorna dal passato. Andiamo a vederla questa luna. ok. Sì, potrebbe proprio essere una persona ragazzi, un amore, un vecchio amore mi verrebbe da dire proprio. Devo dire che un'altra lettura di questo gruppo di carte è che all'inizio mese siate focalizzati molto sul vostro lato ricettivo, sul vostro lato, diciamo, intuitivo, un po' da elaborare questo tre di spade che probabilmente avete dentro per poter far rinascere il cuore. E' un po' come se ci fosse un momento di cura, di guarigione del cuore. Andiamo a vedere questo asso di spade. Come l'idea qua che qualcuno potrebbe rivivere è anche la paura di essere tradito, la paura di essere ferito. Allora, per l'asso di spade abbiamo un otto di coppe e un, scusate, un re di coppe e un otto di pentacoli. Allora, qui c'è come una mancanza di costanza nella comunicazione. Può essere che se avete qualcuno in testa, ragazzi, devo dire che potrebbe esserci una comunicazione non troppo fluida con questa persona. Se non avete nessuno, vi dico che potreste conoscere qualcuno, diciamo, verso la parte centrale di aprile, magari sul lavoro. Potrebbe essere una persona con un ruolo più alto di voi e per un gruppo, vi dicevo, c'è come ho questa sensazione di andarci un po' con i piedi di piombo per paura di essere traditi di nuovo, oppure potrebbe proprio essere, diciamo, un mezzo ritorno. Mezzo, ve lo confermo dopo se è completo. Ovviamente, se non volete che il vostro ex torni, avete sempre libero arbitrio di dire no, non fatevi prendere dal panico, oddio il mio ex, non lo voglio. Avete sempre il potere di dire no. Andiamo a vedere la temperanza. Re di spade e sette di pentacoli. Che interessante, sette, otto e due re. Allora, nel caso sia la persona che torna, ragazzi, devo dire che non andrete tanto per il sottile. Adesso poi andiamo a vedere anche questo tra di bastoni, ma come la sensazione è che non aspetterete più tanto, perché tutte e due le carte, che tecnicamente mi parlano di attesa, sono girate al contrario, come se non foste più disposti ad aspettare l'eventuale cambio, l'eventuale concretizzazione di certe cose. Non siete più disposti ad aspettare a fine mese. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, il 5 di coppe e asso di denari. Sì, infatti, ho come l'idea che inizierete a guardare più in avanti, più al vostro futuro. Nel caso non abbiate proprio nessuno, 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 come vi dicevo, nella parte centrale potrebbe arrivare, diciamo, un po' di gente. Qualcuno potreste conoscerlo sul lavoro e qualcun altro è legato a qualche questione sportiva, o come la sensazione è che potreste conoscere qualcuno in qualche manifestazione, che sia sportivo o no, però è una manifestazione che può essere legata all'agricoltura, può essere legata alle escursioni, ipotesi, potrebbe esserci anche lì una conoscenza interessante. Se ragazzi avete una persona in testa, devo dire che qui la comunicazione non è delle più fluide, o come la sensazione è che ad un certo punto vi dirigerete verso altre opzioni. verso altre opzioni. Devo dire che comunque c'è un asso di pentacoli, eh? È come se ci fosse un inizio a fine mese, un passo in avanti nei confronti perlomeno di uno dei due re che vediamo qua. Bene, andiamo a vedere ancora un koan per darvi un consiglio. chi pone la domanda di chi è il dubbio, mi viene da dire? Chi è che non è sicuro? Chi è che non si sente bene? Ok, andiamo a vedere ancora una fatina, ragazzi. Qui è un po'... perché effettivamente qui la luna parla di dubbi, parla di quello che non ci torna. La luna è una di quelle carte che dice che la realtà è illuminata a metà. Quindi è come non avere la visione piena, no? E da un lato c'è questo amore che vorrebbe sgorgare questo nuovo inizio e dall'altro c'è questo tradimento, la paura magari di essere traditi. Poi soprattutto se la conoscenza che state facendo non è lineare nella comunicazione, un po' c'è, un po' non c'è, vi dice belle cose, però poi a livello pratico non è tanto presente. È chiaro che uno o due domande se le fa, insomma. Se poi avete paura, di nuovo, come vi dicevo qua all'inizio, di essere traditi o di soffrire, se la persona non vi fa stare, diciamo, non vi fa sentire nella zona di comfort subito, mi viene da dire che con questo tradibastoni prenderete, prenderete, come vi posso dire? perché sinceramente non vedo proprio un cambio. Potrebbe anche essere che qua, con questo asso di spade, sia un consiglio a dire ok, mettete le cose in chiaro. E da qui c'è una sorta di concretizzazione, però abbiamo anche un 5 di coppe, quindi io ho la sensazione che qualcuno tirerà indietro, però fatemelo sapere nei commenti. Ok, guardate, abbiamo la carta di prosperità, che è un po' il messaggio di questo 3 di bastoni. Quindi qui il senso è di mettere le cose in chiaro, capire quali sono le vostre paure e lavorare su questa temperanza, quindi mettete in equilibrio. Mi dice un po' questo re di spade, il contrario, di azzittire la mente e anche la soddisfade. E' un po' come se vi dicessero guardate i fatti, guardate le cose concrete, perché qui sotto comunque abbiamo tutti i pentacoli e qui si parla di prosperità. Credo che qui si tratti prima di capire voi cosa volete, che cosa vi fa star bene, in modo che anche la comunicazione con un'eventuale altra persona, che se non avete nessuno potreste andare a conoscere verso la metà di aprile, potrebbe poi, diciamo, rendere più concrete le cose ed evitare di fare anche passi falsi, mi viene da dire. Va bene, cari amici del primo gruppo, questo è quello che avevo per voi, fatemi poi sapere nei commenti come vi risuona. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao! Benvenute alle persone della seconda scelta. Andiamo a vedere quali sono le energie. Vi ricordo che sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete ascoltare una delle altre estese o il vostro ascendente nel caso stiate seguendo i segni zodiacali. Bene, ragazzi, vi invito anche a curiosare nella descrizione del video perché ci sono link interessanti e anche i link ai corsi gratuiti. Ok, partiamo con un asso di spade, il diavolo. Ruota della fortuna e nuove di pentacoli. Non male, non male, cari amici. Allora, devo dire che qui si parte con quest'osso di spade che può far riferimento a... Allora, potrebbe essere... Vedendolo vicino al diavolo mi viene da dirvi ultimatum. È come se fosse un qualche tipo di comunicazione, un qualche tipo di confronto, piuttosto che dialogo, piuttosto che presa di consapevolezza. Ordine mentale che ci sarà nella prima parte del mese. Poi abbiamo il diavolo e, ragazzi, qua tentazioni in vista. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dall'asso di spade. Asso di coppe e otto di pentacoli. Allora, potrebbe esserci l'inizio a inizio aprile. Ragazzi, di una bella conoscenza, di una bella relazione, mi viene da dire, perché abbiamo anche una storia di coppe. Per lo meno, diciamo che quello che sento qui è una forte intesa a livello mentale e a livello spirituale. C'è però questa carta del otto di bastoni, scusatemi, dell'otto di pentacoli, che essendo girata al contrario mi fa un po' pensare che le cose non siano tanto lineari, che non siano tanto, diciamo, continuative, o per qualcuno potrebbe esserci di mezzo una situazione lavorativa. Andiamo a vedere questo diavolo. Fante di bastoni e cinque di bastoni. Allora, devo dire, ragazzi, che per metà mese potrebbero esserci diversi corteggiatori o corteggiatrici intorno a voi, diverse tentazioni. Uno in particolare potrebbe spiccare. Segno di fuoco, per chi fosse appassionato di segni. Ariete, leone o saggitarno, nello specifico potrebbe essere un ariete. Anche il capricorno, volendo. Anche se è un segno di terra, ma il diavolo rappresenta il capricorno. Ragazzi, devo dire che la sento frizzantina. La parte centrale del mese la sento parecchio frizzantina. Potrebbero esserci diversi, diciamo, partecipanti al gioco. Poi dipende se voi siete uno dei partecipanti e la persona è un'altra. Oppure se questo fante di bastoni siete voi e ci sono diverse energie che vi ronzano intorno. Andiamo a vedere la ruota della fortuna, perché c'è un cambio inaspettato. Wow, otto di bastoni. C'è una comunicazione. È un asso di pentacoli. Ragazzi, qui ho come la sensazione che qualcuno potrebbe dichiararsi per iniziare una nuova relazione. Per iniziare qualcosa di concreto. Vi dico, quando c'è la ruota della fortuna i cambi sono sempre molto veloci, molto repentini, ma normalmente sono per il nostro più alto bene. Quindi qui sento anche un po' la volontà, la voglia di amarsi, anche una sorta di predisposizione con questo asso di coppe e una sorta di frullatore a metà mese, ragazzi. E devo dire, c'è un bel asso di pentacoli, però andiamo a vedere anche questo 9 di pentacoli, perché qui è infatti... Devo dire che sarete parecchio titubanti. Le occasioni, le potenzialità, devo dire che ci sono. Diciamo che forse, essendo un diavolo, potreste avvertire questa proposta, questo frullatore un po' troppo veloce, un po' troppo condizionante per voi e quindi tirare un attimino il freno a mano e dire ma aspetta un attimo, qui è giusto andare così veloce, spromba tutto o è meglio rallentare un attimino il passo? Perché vi confesso che il 9 di pentacoli è la carta dei single, ma è un single convinto nel senso che è una persona che sta bene con la sua singletudine, con il suo stare solo, è una persona che si gode quello che ha, che sa darsi amore, quindi è una persona quasi completa. Direi completa, anche se è un 9, però comunque è una persona che sa provvedere a se stessa, molto indipendente, quindi ho come la sensazione che qui ci sia una sorta di ehi, aspetta un attimo, sta succedendo tutto troppo in fretta, non so se sei la persona indicata, non so se voglio questo tipo di relazione, è come se vi assalissero verso fine mese una serie di dubbi, ok? Voglio andare a vedere un attimo questo fante di... Ok, sì, ho l'idea che percepirete l'altra persona come un po' troppo, diciamo volatile, un po' troppo facile alle promesse, un po' troppo entusiasta per determinate cose e forse voi avete bisogno di un pochettino più di concretezza in questo senso. Però devo dire, ragazzi, che sono belle carte, ci sarà del movimento, soprattutto direi sotto le lenzuola, però ecco, ho com'è la sensazione che questo personaggio potrebbe essere un po' troppo, diciamo, con i piedi per aria rispetto a come siete voi. E questo potrebbe farvi venire qualche dubbio. Andiamo a vedere un koan, un consiglio. Non cercare la verità, smetti semplicemente di avere opinioni. Oh, che interessante, ragazzi! Tipo, se ci fosse una differenza di età importante tra di voi, ed è per quello anche un po' magari il dubbio, o tutto questo entusiasmo dall'altra parte rispetto alla vostra pacatezza e concretezza, il punto non è se la persona è giusta o sbagliata, o se la società vede in modo giusto o sbagliato questa differenza d'età ipotetica. Si tratta di capire se quella persona vi fa star bene, ok? Va bene, era un esempio, eh? Come un altro. Va bene. Andiamo a vedere ancora una fatina. Disponibilità, infatti, non si tratta di giudicare, ma di essere disponibili e aperti, accogliere a braccia aperte quello che il destino, la fortuna, vi sta presentando davanti, ok? Bene, cari amici del secondo gruppo, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata di ispirazione, fatemelo sapere con un commento o con un like. Se avete piacere potete anche iscrivervi, condividere il video, o per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao. Benvenute anche le persone del terzo gruppo. Andiamo a vedere le energie. Vi ricordo che sono collettive, è facile che non risuoni tutto. E se non risuonasse nulla, potete ascoltare una delle altre scelte, quella corrispondente all'ascendente, se seguiti i segni zodiacali. In descrizione ci sono dei link che potrebbero essere interessanti, quindi vi invito a dare un'occhiata. Bene, allora, abbiamo un 2 di bastoni, un re di coppe, un 8 di bastoni, e un imperatore, ragazzi. Non male. Devo dire che questo 2 di bastoni mi fa pensare a un viaggio, a un'escursione, a uno spostamento che potreste fare, o progettare anche. Magari non è un viaggio che andrete a fare nel breve periodo, ma state progettando un viaggio piuttosto che un qualche cosa di nuovo. Allora, abbiamo anche questo re di coppe. Io come la sensazione? Allora, se non avete proprio nessuno, 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 vi dico che potrebbe arrivare qualcuno, magari proprio durante questo viaggio, durante questa escursione, durante questa progettazione. Se avete qualcuno in testa, ragazzi, potrebbe essere proprio questa persona, che in qualche modo, devo dire, vedo che si avvicina a voi. Se prima vedevate questa persona, magari come lontana, nel mese di aprile potrebbe esserci un avvicinamento, potrebbe esserci qualche tipo di incontro, di comunicazione, di dialogo, di interesse. Andiamo a vedere a carta per carta. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Uh, un fante di coppe. Guardate, per qualcuno potrebbe essere un'offerta questo viaggio, questo progetto. Magari non è tutta, diciamo... Sì, è un viaggio, ragazzi. Abbiamo un carro. Potrebbe anche essere che state pensando, ipotesi a dove andare in vacanza e qualcuno vi faccia questa offerta. Per un gruppo diverso di persone potrebbe fare riferimento a un trasferimento, ma lo sento per un gruppo molto piccolo, dove dopo questo trasferimento potrebbe esserci questa conoscenza. Andiamo a vedere il radicoppe. Un cavaliere di bastoni. Guardate, ho come la sensazione che questa persona sia molto timida, molto riservata, molto sulle sue... Cavaliere di bastoni e cinque di bastoni. Ragazzi, per qualcuno si tratta di più pretendenti. Il viaggio è qui, mi parlano di escursione in montagna, quindi se per caso qualcuno sta organizzando, vuole partecipare a qualche escursione in montagna, lì ci potrebbe essere questa conoscenza. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Giustizia e fante di pentacoli. Guardate ragazzi, tutto mi dice che questa persona ci va con i piedi di piombo perché vuole fare le cose fatte in un certo modo. Con la Carta della Giustizia c'è proprio questa voglia di fare le cose regolarmente. Vi dirò, per qualcuno fa riferimento a qualche questione burocratica, a qualche contratto che potrebbe arrivare, come la comunicazione di un contratto, la comunicazione di un nuovo inizio, la comunicazione di... guardate io vedo dal re di coppa alla giustizia e l'imperatore è una persona che vi dice io ci sono per costruire qualcosa di concreto. Il punto qual è? La sento con così tanta sensibilità a questa persona che è un po' come se ci tenesse a partire col piede giusto. Andiamo a vedere l'imperatore. guardate quattro di spade e cavaliere di coppe. Ragazzi io sento che qui a qualcuno verrà fatta un certo tipo di offerta stabile, concreta. Potrebbe essere anche che vi offrano se per caso diciamo le cose se avete una persona in testa state frequentando comunque qualcuno potrebbe essere il mese giusto per iniziare a pensare a qualche cosa di più concreto con questa persona. Se non avete nessuno ragazzi vi dico che è come se ci fosse una conoscenza per caso e questa persona con la sua delicatezza, gentilezza, sensibilità, riservatezza, premura, piano piano un po' vi conquistasse per poi fare un'offerta degna. Wow! Sono stupende ragazzi queste carte. Andiamo a vedere ancora un koan. Tu sorridi e il mondo cambia. Wow! Parla di attitudine, ok? Quindi c'è un proverbio che dice se guardi la vita sorridendo la vita ti sorride, no? Ed è un po' la stessa cosa. È un po' come il seminate buone vibrazioni e vedrete che torneranno indietro buone vibrazioni. si è girata questa carta ragazzi. Responsabilità. Scusate. Responsabilità. E la sento un po' collegata alla carta della giustizia sinceramente. perché con questo 5 di bastoni è come se ci fossero dei dubbi delle questioni da definire bene ma le definirete verso fine mese con la carta della giustizia avete anche un 4 di spade al contrario quindi si parla di un momento di rigenerazione di un momento proprio di guarigione come se ci fosse la fine dell'isolamento è una bella lettura amici del terzo gruppo fatemi comunque sapere nei commenti come vi andrà insomma il mese se volete supportare il canale potete mettere like potete iscrivervi potete condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi invito ad abbonarvi al canale io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao